Questo pomeriggio all'Aquila è prevista un'importante riunione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e degli esperti della Commissione di Grandi Rischi con l'obiettivo si legge in una nota di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili sull'attività sismica delle ultime settimane e fare il punto sui piani di emergenza già predisposti. Al nostro microfono l'assessore regionale con delega alla protezione civile Daniela Stati. Questa sera ci sarà una riunione presso l'assessorato alla protezione civile come è stato già anticipato dal Dipartimento Centrale di Protezione Civile il dottor Guido Bertolaso ci invierà due esperti in sismologia e il suo braccio destro il professor Chico De Bernardinis. Intanto all'Aquila la protezione civile è nello stato di massima allerta. Non possiamo fare previsioni, non abbiamo attualmente strumenti che siano in grado di dirci se ci sarà una scossa più forte o una scossa più bassa. L'unica cosa che possiamo limitarci a fare in questo momento è una serie di raccomandazioni che riguardano come ci si comporta durante un evento sismico. Inutile precipitarsi per le scale oppure evitare di prendere l'ascensore, rifugiarsi sotto elementi portanti delle abitazioni, però questo solo in caso in cui si presentino forti eventi sismici. Nella nostra regione da sempre piccoli terremoti, basta esaminare gli annali dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dove si vede che periodicamente il nostro territorio è attraversato da piccoli sciami sismici che delle volte sono sensibili, sono superiori ai due punto grado della scala Richter, altre volte sono inferiori, le registrano solamente gli strumenti. Questa mattina si riunita poi la centrale operativa comunale, istituita ieri dal sindaco Massimo Cialente. Anzitutto abbiamo provveduto a sospendere l'attività didattica delle scuole nella giornata di oggi per effettuare tutti i diversi controlli nelle scuole. Devo dire che si sono effettuati circa 60 controlli e la situazione è serena e tranquilla, senza alcun tipo di difficoltà. Ancora abbiamo messo in funzione, abbiamo avvisato tutti coloro che sono disponibili per la centrale operativa comunale per fare in modo che tutti siano allertati per i responsabili dei vari settori.